Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Giuro che non ho copiato nessuna intro Ok? Almeno mi è venuta di dire questa e ho detto questa E oggi siamo nel secondo video exploring Io sono qui con... Ciao! Questo è lui che è Michele, un mio amico E poi con Steve 89 Ciao raga! È un aspirante youtuber Insomma che spera di fare successo come tutti gli youtuber Almeno penso sia così Oggi siamo al cinema delle palme E niente Io stoppo qui un attimo il video Intanto sta passando l'autobus che fa un casino e va adornare E niente Io termino qua il video e ci vediamo davanti al complesso Ciao ciao! Ok ragazzi il complesso è questo Ci stiamo preparando Bene ragazzi Noi entreremo Direi proprio che possiamo entrare, dai Ma chi se ne frega del tizio? Entra! Ragazzi sarà un'esperienza a del poco traumatica Vai corri 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 Tutti dentro Tutti dentro E benvenuti al cinema delle palme Chiamalo Ho un flash Guarda che c'è qua Sì Ehm Guarda qua Guarda qua Guarda qua E qua non sto nello facendo Dovrebbero Sì ma ci vuole come se ci vuole Raga Sì ma non si vede niente con tutto il flash Sì ma c'è un problema Ma hanno detto che questo cinema cazzo è spedato No non è vero Allora qui ci sono C'è il palco della Dove si esibivano No non c'è Questo sì c'è sempre stato E adesso Andremo nei camerini I camerini sono da qui Oddio Questi sono i camerini Bene raga Io mi devo dire una cosa Giardini tipo Casetta di veneno Sono minchiate Ma qua proprio Qui si entra Oddio Qui praticamente C'erano i bagni E Truccavano le donne Questo banco È di 30 anni più o meno E per spoverarlo Lo devono ributtare giù Esatto Salendo di qui Si va al secondo piano O meglio il palco Vedete Questa è È pericolante Quindi scenderemo Saliremo Adesso lì sopra Che praticamente Michele ti ricordo Dove succedeva Perché sto posto è gigante Ah dall'interno Ah intanto vediamo Lo spogliatoio maschile E quello femminile Così Allora questo Era lo spogliatoio Maschile Penso Oh raga Maga Devo dirvi una cosa Oh dimmi Saliamo No aspetta Non ora Non ora Qua E qui Invece c'era lo spogliatoio Femminile Femminile? Sì perché Sì perché quello L'acqua Quello Ecco No Vabbè Raga un aneddoto Da qui Ah ecco Siccome questo posto È preso fuoco Da qui Era partito l'incendio Perché si è fuso Un fusibile È tutto fuoco È preso Sì tutto Tutto Porca miseria Ok È saliremo 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 E nevo qui Fermo 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 Qui c'è un altro spogliatoio Pericolante In che senso? Ma è pericolante Però noi ci avventuriamo Che pericolo No È qui ragazzi Porca troia Benvenuti Oh raga Senza scherzare Mi sono sentito toccare la gamba È normale Porca puttana Bene No lasciala dove l'hai trovata Porca Lasciala dove l'hai trovata Porca la faccio bocca Ragazzi Qui La gente si metteva A guardare Le persone che Si esibivano Però cosa la posso dire? Ehi Il cinema ambassador È molto meglio No Facchè il cinema ambassador Allora Ah Sembra che Sì ma Era È vecchissimo Per Che cosa Ah il mio Collega Ha visto qualcosa qui? Ah sì Si può salire Ragazzi Guarda Il cinema Dalle palme Cioè ci devono messere I film No c'erano anche spettacoli Che cosa c'era? Ah sì È il fuori Bene Ora noi scendiamo E andiamo Nelle altre stanze Che ci sono al piano di sotto Per Ehi Ah ecco Vediamo se è la stessa cosa Dall'altra parte Ma penso di sì 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 Questa è piccola Vediamo No Sì è fatto uguale No infatti è uguale Se sei visuale Solo che siamo dall'altra parte E adesso Oddio Stavo cadendo E adesso scenderemo E andremo Alla prossima stanza Tanto il piano di sotto È tutto esplorato Vero Giuseppe Te l'avevo promesso No È bassissimo Eh? Non sputare Non sputare Questo posto Ah è sacro Non sputare Io devo andare in bagno Tanto c'hai il bagno Posso andare a pisciare? No Questo posto è sacro Cioè anche per me Che Non ci ho vissuto No No dobbiamo salire Eh? Di qua ci siamo saliti Vero? Sì di qua Sì ci siamo saliti Ah di qua pure Ah è la stessa cosa Vabbè di là c'è quello delle femmine Allora Di qua Di qua Non si vedrà Ah è vero Di qua non si È una stanza piccola Ah è una stanza Quella vuota Che ho visto nel super luogo Eh andremo Andremo poi di qua Che è Giù è finito vicino Esatto Sì ma è grande Solo perché è grande Oddio Ragazzi Questo qui Vedete? Oddio Vedete? Questi così qui Sono della Western Se non sbaglio Erano le cose della Western Della Western Union Eh Union Penso sì sì Just Union Praticamente Erano Quei cosi che si mettono davanti Un film Western Eh ragazzi Adesso Metto lì Adesso metto lì Oh ti puoi scendere Una fognatura Eh Mica scendere la fognatura Ti puoi vedere Se non ha delle panne Sì esatto Esatto Beh ragazzi Io penso Con il te che fa Eh ragazzi Io penso di dover Chiudere E chiudere in un modo Molto carino Da Michele Tenimi il telefon Ciao Ciao Ben ragazzi Ok Il video di oggi termina qui Questo è il cinema delle panne È un posto davvero bellissimo Io Cioè io Praticamente Bremeri questo logo pubblico Anche perché C'è un po' pericolante Ma comunque c'è sempre lo stile di quella volta beh ragazzi niente, il video finisce qui dal cinema delle palle è da me, Attack of the Game è da Steve, come ti chiamai Steve? aspetta come ti chiamai Matti? di nuovo ti chiamai Steve? si, è da Steve è da Steve, ciao raga è tutto, e noi ci rivediamo ciao